Siamo a tutti ragazzi, qui è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovo sito su Dragon Ball Z Dokkan Battle versione Global Oggi ci troviamo con giornata di nuvità, diciamo, giornata di news, infatti è uscita la Golden Week sia sul Global che sul JAP Infatti sono uscite il Dual Dokkan Festival di Goku GT e di Vegeta GT Andremo subito a vedere le batch, vi dico subito che sul JAP e sul Global ci sono delle mille differenze Ossia su JAP ci sono Paiwan e Janemba, mentre sul Global c'è Golan Tech e Golden Freezer fisico Che, a parer mio, è molto meglio la batch Global che quella JAP Quindi se dovete decidere di pullare, pullate pure sul Global perché ci sono le scontate Ma sul JAP potete bellissimamente schippare anche perché i PG di lì oramai sono usciti un bel po' di volte Molti player, molte persone hanno già i PG da build Se invece vi mancano molti PG, un giro potete fare sia da Goku che da Vegeta Anche perché la batch non è per nulla male, sono veramente ottime batch Andiamo subito alla batch e vi faccio vedere come sono strutturate Allora, vedete sul Global ci sono le scontate, infatti faremo un giro da Goku e un giro da Vegeta Questo video credo che vedete solo il giro da Goku C'è la mia nevesi anche del JAP, Goku 4, che non vorrei vedere Quindi io sul JAP non ci pullerò Abbiamo un Goku, il nuovo Goku Abbiamo il nuovo Goten Si che poi diventa con Gohan, questo infatti stavo dicendo Vabbè, Giro Tech che male non fa, anche se è tornato già da Janembe Paiwan Quindi pure Gojira infatti c'è la sua controparte Vabbè, sono tornati subito subito questi personaggi Gohan 4, ok ci sta giustamente il nuovo Goku Poi abbiamo Gohan Tech, come vi ho detto, ottimo, ottima aggiunta Veramente un buonissimo personaggio Che spero di trovare almeno portato abiliti Poi abbiamo Goku Sto Goku va a Super Saiyan 3, ok Goku Evo no Goku Full Power Che non mi farebbe schifo un abiliti essendo abiliti free E poi la batch finisce con i soldi esterni in ed up Vediamo invece Vegeta Che naturalmente c'è il nuovo Vegeta Però lui è ottimo personaggio Sia il nuovo Goku e il nuovo Vegeta sono veramente degli ottimi personaggi Goku, non ve lo dico, spara certe canonagatomiche Trance è un nuovo Rensumno che va con Goten Mi sembra, yes Poi abbiamo Gojira Gojira quarto Golden Fistico fisico Vi ho detto, ottima aggiunta rispetto a Paiwan che c'è sul Japp Tanta tanta roba Poi abbiamo la C-Vegeta Tech La controparte di l'altro Goku E Vegeta Evo, la controparte di Goku Evo E Vegeta Super Saiyan 3 pure Che qui sarebbe la controparte di Goku 4 Full Power Visto che Vegeta non ha un altro Super Saiyan 4 oltre la GL Hanno messo Vegeta Super Saiyan 3 Va bene Queste sono le batch Attualmente c'è ancora la batch di... Ah non l'hanno tolta Paiwan e Genebook No perché ieri sera Verso che erano le 2 quando si uscite le batch C'erano ancora Perciò E fra il tempo ci facciamo un attimo sti ticket del torneo Visto che hanno dato pure i reward del torneo Ma proprio veloce veloce Nulla di particolare E poi puliamo su Goku Iniziamo il giro da Goku Vediamo che esce qualche SSR carino Qualcuno che non ha un full hub possibilmente Non chiedo tanto Eh ma ancora mai BG torneo non dico che sono tutti i full hub Ma poco ci manca Infatti adesso sto aumentando le SSR De BG torneo con le loro Goku Per di Vediamo Mi sembra che non era full hub Vabbè Vedrò vedrò Al massimo aumenta le SSR Però mi sembra che non era full hub Va bene va bene va bene Allora Iniziamo subito come sempre Il giro è strutturato 35 40 40 45 dovrebbe essere Controllo subito e vi dico Ok Strutturato 35 40 45 E poi c'è la La multi free E poi c'è Si ripete il giro così All'infinito Infatti Vedete Tre multi Sono le solita Routine della Dopo Non mettano sempre I coin Red Per prendere i BG Dal Babashop Infatti ci sono tutti Sti BG Tranne il nuovo Goku Nel Babashop Quindi potete prendere Pure un Veget Se non l'avete preso Da poi con One e Janemba Oppure con Ultimate Che è veramente tanta tanta roba Dall'altra Abbiamo Golden Che mi manca Che non mi farebbe schifo Per il resto Ho già tutto Quindi alla ricerca Dei nuovi BG E Con Ultimate E Golden Pure le nuove Strategiette e Gogete Dell'R E non mi farebbe schifo Portarla da piedi Va bene signori Sperando che vada bene Come è andata La scorsa volta Con Janemba Sperando che pure Questa volta Possa andare bene Io farò solo Le giri scondate Ho detto Stavolta su Goku Prossimo video Lo faremo su Vegeta E Sperandoci Posso andare bene Sperò che questa Gold Week Ci vada bene Prima multi Dai gioco Fammi trust Non devo I nuovi BG Ma pure roba interessante Non chiedo Per forza I nuovi BG Ok Gente a caso Non per forza I nuovi BG Ok La prima multi Nulla di Particolare Tranquilla Sembra Super Saiyan 2 Vabbè Sembra tranquillissimo Buon bambino Miracolata Gioco qualsiasi Pure nell'area A caso Non lo so Quello che vuoi Foro un po' un quarto Vabbè Tanto non è full up Il problema è che Se trovo un quarto Adesso Avrò Il timore Nell'anniversario Faccio la fine del gioco E ne trovo un 40 Quindi Eviterei quel Go Guarda se mi detrano Un budget Doppio Goku Un altro Goku 0 0 0 Stamina multi Vabbè La prima multi Di riscaldare La prima multi È per i principianti Ok V Super Già è full up Vabbè Va bene Va bene Va bene Sono altri Coin Seconda multi Seconda multi Dai dai Io ci credo Ci credo Ci credo Possiamo sculare Possiamo sculare Nella golden week Su via Bella merda Vuoi Diamocela Che schifo Però Ha detto O guarità Signori O guarità O guarità Banner Incoming Eh Io non direi nulla Però PG banner Doppio crack Di screen Possibile LR pure Eh Possibile LR pure Bu Busuper Un'altra volta Però Oppure lui è già full up Ma ormai mi sta spammando il Busuper Assolutamente dammi pure Buccolo L'ho portato a Bili Stico Ma mi sa che sono i ridap Stico Quest'era Adesso ho traggiato Non ho visto Ma mi sa di sì Al garantito E al garantito Il banner Va bene Va bene Eh beh Quello che volevo di meno Però Lo porto da Bili Va bene Ma però Ancora non è finita La multi Però Diciamo che Tra tutti Quelli che ci sono Nel bar Oh Meglio lui Che go away Voi sicuramente Lo porto da Bili Di uno Va bene Va bene Dopo tanti anni L'ho trovato Finalmente Perché la scorsa L'ho preso Con le stone Viola Tipo Non mi ricordo Goku GT Bambino Sbagliato Quello sbagliato Va bene Goku full power Ci può stare Non mi lamento Che l'ho portato a Bili Prossima multi Che poi c'è la free E Abbandoniamo il banner Anche perché l'ho detto Il banner non è questo Buono sicuramente Ma riesco a conservare Per l'anniversario Prossima multi Intanto sono 35 40 Sono 110 stone Quindi sono 220 stone Che si rimane per l'anniversario Per fare Sti due banner E zoom Ho capito che ci sono le free Si fanno Le free si fanno Qualsiasi Pure se il banner fa schifo Voi fate le free Ultimissima E poi abbiamo Multi free La free L'hai scontata Perchè Le free Le scontate Si fanno quasi 18 trunks 18 trunks Che è sta roba Che è sto abominio Diciamo una cosa Goku nuovo Non lo voglio Vediamo se funziona Il nuovo Goku Non lo voglio Cominito il gioco Mi fa poco schifo Preferisco Goku full power Si 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 Molto me Il nuovo Goku Mi fa poco cacare al ca Cioè Non lo voglio evitare proprio Come la peste Un altro Sto Con questo L'ho detto In realtà Si si Barlot Esiste ancora Barlot Madonna Signori Ultimissima Multi E poi Possiamo dire Addio al banner Purtroppo Sta andando Come sta andando Non mi aspettavo altro Dopo Quello che ho trovato Da genempo Però Sto sfigando qua Per sculare Ad anniversare Io la penso In questo modo Sperando di pensarla Bene Ultimissima Multi Non Non Vaglio In nuovo Non Vaglio In nuovo Hm? Non Vaglio In nuovo Go Non la Go Sperate Non Vaglio Non Vaglio Non La Vaglio Non La Vaglio Allora Carissimo Dokken Io Non lo so Andrei da Bandai Stringerei la mano Al cavo di Bandai Così proprio Con la mano Così Di piacere E poi Gli offrirei pure Da mangiare Che ne so Funziona Funziona Ho trovato il metodo supremo per scolare ovunque Goku nuovo non lo volevo Il gioco me l'ha dato Ehm GG Boh Io ho trovato il metodo supremo per scolare adesso E ha funzionato da Genema Qua ha funzionato da Goku E' incredibile Io mi meraviglio che devo ancora capire come faccio Ma faccio paura come faccio paura da solo Non voglio manco budget Vabbè Vabbè Ma non lo chiediamo troppo eh Ehm Va bene Ehm Un giro il nuovo Goku Io ci avrei firmato instant GG signori GG Buonissimo personaggio Questo Buonissimo personaggio Veramente tanta tanta roba Signori Che dire Io il mio l'ho fatto anche oggi Il mio l'ho trovato Ho trovato il nuovo Goku Me ne lavo le mani Sono appostissimo Vi saluto Vi ringrazio Per aver visto il video Provate anche voi Sto metodo Non so se funziona solo con me Oppure con altri Vi aspetto nel prossimo video Per pullare anche su Vegeta Quindi mi raccomando Vegeta ci sta aspettando E niente Grazie mille per aver visto il video Se il video vi è piaciuto Potete lasciare un like Iscrivervi al canale Noi ci vediamo Alla prossima